Maria Sole Poglio è a tutti gli effetti uno dei nuovi volti della scuderia Mediaset. 19 anni appena compiuti, da ben 6, fa parte del team di Battiti Live dove condivide il palco con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Artisticamente è nata su YouTube, fin quando Francesco Facchinetti non l'ha notata e arruolata. Io e Francesco siamo molto simili, ha confessato a TV Blog, la prima volta che l'ho incontrato a Milano. Io avevo appena iniziato e lui ad occhi chiusi ha creduto in, mi ha insegnato che se ci credi poi abbiamo realizzato insieme cose che non ci saremmo mai immaginati, ma che però ce le siamo sempre dette ed è stata questa la magia. In questi anni ho rifiutato dei progetti perché credo che a volte dei no possano essere più utili dei, sì, non c'è bisogno di accettare tutto subito e soprattutto non c'è fretta, perché l'importante è a crescere ed arrivare pronto. Ora per Radio 105 condurrà tre serate dedicate al Coca-Cola Summer Festival, sicuramente un giorno, da qui a non so quando, mi piacerebbe avere un programma tutto mio che sia di musica e che assorba in qualche modo il mio carattere. Mi piacerebbe sperimentare anche altri generi televisivi. Anche se per ora mi trovo molto bene nel connubio musica-conduzione. Un reality, ad esempio, sarebbe una bellissima sfida e opportunità, ovviamente non come partecipante, ma come conduttrice. Come concorrente rifiuterei, ad eccezione forse di Celebrity Hunted, che mi piace particolarmente per l'aspetto adventure di scappare, nascondersi.